ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda questi fatti da wicon sono stata non una non due ma ben tre volte da wicon allora dovevo prendere delle cose che mi interessavano perché in questo periodo c'è la promozione prendi 4 e 1 è gratis io sinceramente aspettate che io sinceramente l'unica cosa che volevo fare era togliere i punti nel senso smaltire i punti che avevo e andare avanti invece non è stato possibile perché lo sconto ce l'avevo se prendevo tipo tre prodotti e il quarto era in regalo e quindi ho preso quattro dei loro pennelli che sono ottimi ho preso questo qui grande a 13 euro e 90 tutti gli altri erano a 8 euro e 90 questo qui per quanto riguarda il viso e le f 101 ed è un pennello per l'applicazione del fondotinta mi piace tantissimo perché oltre a essere due fibre ed è una cosa che mi piace aspettate che sposto è un due fibre e mi piace tantissimo non l'ho ancora lavati quindi non vi so dire se perdono pelle non perdono pelle mi piace il fatto che sia un pennello abbastanza folto quindi buono per applicare il fondotinta perché molto spesso mi capita di applicarlo con la beauty blender però siccome sto facendo delle prove per quanto riguarda alcuni fondotinta li sto applicando con il pennello da un lato e con la beauty blender dall'altra e come vi stavo dicendo spesso mi capita di applicare con il pennello e dopo passarci la spugnetta proprio per togliere l'eccesso che lascia il pennello però voglio provare questo qua proprio per vedere se è ottimo come pennello da fondotinta controlliamo i denti se vanno molto posto poi ho preso i due pennelli e il terzo era in regalo allora i pennelli che ho preso io sono questi uno è questo qua sperando aspettate che lo devo tagliare qui c'è la forbice ovvio chi ce l'ha la forbice io no io avevo tante cose qua sopra ma se loro entrano c'è incollato c'è credetemi è incollato lo devo aprire da qualche parte una forbice forbice qui allora aspettate che apro allora questo è il pennello che io avevo preso ed è un pennello da sfumatura e si chiama e 12 ed è un pennello abbastanza ampio da sfumatura lungo e a me piacciono questi tipi di pennelli non sembra che funga no non funge ed è una cosa che adoro mi piace tantissimo la lunghezza e volevo sia questo che quello più piccolo che adesso vi faccio vedere che sarebbe questo ed è il numero e 11 ed è lo stesso pennello che vi ho fatto vedere poco fa solo leggermente più piccolo a me piace tantissimo questa cosa ve lo metto a pari a quello perché dipende cosa devo fare mi serve uno più grande e uno più piccolo quindi questo è più alto e l'altro più piccolo e mi piace tantissimo il regalo mi hanno dato un altro pennello ovviamente scelto sempre da me perché volevo proprio provarli e ho preso le 10 che sarebbe sempre un pennello da sfumatura però più piccolo e sempre due fibre ed è molto molto bello veramente mi piace mi piace tantissimo l'ho toccato del bello morbido e mi piace poi un'altra volta sono andata e ho preso due prodotti che sono due prodotti per le labbra uno è un olio protettivo ed è il lip oil con burro di karité e di mango già questo c'era nella linea permanente però la la boccetta era diversa stavolta l'hanno fatta più particolare questo è il packaging esterno si chiama lip oil e la il lip è questo questo così vi faccio vedere perché lo utilizzerò ovviamente e questo è il pennellino è un pennellino semplice uguale a tutti quelli a tutti quelli per l'applicazione delle luci da labbra l'odore fa di arancio si qua ovviamente in sicilia già stanno iniziando con la raccolta delle arance quindi se volete delle arance ottime non che vengono da posti dall'oltretomba tra virgolette comprate le arance siciliana perché veramente sono una goduria ve li farei provare veramente li manderei a tutti per farveli provare perché la nostra la nostra terra da questi frutti che sono veramente una cosa speciale e molti preferiscono spendere qualcosa di meno ma si prendono delle cinesate pazzesche quindi state attenti anche quello che mangiate un'altra cosa che ho preso è il long lasting questo qui dei simpson questo sicuramente piacerà la confezione piacerà a mio marito perché lui adora i simpson e li guarda anche da età avanzata e questo è il numero 158 hot mauve ve lo scriverò qui se non lo scrivo qui lo scriverò giù nell'info box tutti i numeri tutti i prodotti ovviamente che colore poteva essere un mauve quindi un malva e ho preso questo bellissimo il packaging mi piace tantissimo vedete il tappo tutto disegnato tutto colorato e la scritta adesso vi faccio lo swatch a me l'unico che è piaciuto è questo è un malva è uno dei colori che io prediligo di più e quindi non potevo che prendere questo ed è questo molto molto bello sono molto contenta di averlo preso ottimo poi andiamo avanti e andiamo alla collezione questa qui rosa della bling bling ho visto svariati swatch ma mi hanno dato anche la borsettina questa è stata la terza tappa o è forse stata la prima delle tre tappe cosa ho preso cosa avrò mai preso qua dentro ci sarà qualcosa di particolare dal di luccicoso vediamo 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 allora per prima cosa vi voglio far vedere sempre per quanto riguarda le labbra uno di questo che no non è questo liquid lipstick allora ho preso della velvet lips un liquid lipstick nella colorazione 514 deep move bravissimi bravissimi ovviamente non poteva essere un malva ed è questo colore qua molto molto bello e vi faccio lo swatch allora questo al contrario di quello che vi ho fatto vedere poco fa ha molto più rosso e mi piace tantissimo anche questo ovviamente sono i colori malva che io prediligo di più e sono veramente bellissimi quindi mi stra piace tantissimo questo colore poi ovviamente ho preso anche per quanto riguarda gli occhi e ne ho presi due perché ne ho presi due uno lo potevo prendere normalmente e uno invece poi l'ho preso scontato quando ho preso il la tinta labbra di dei simpson il primo che vi faccio vedere è lo 04 sì il primo che ho preso è stato lo 04 e si chiama l'iliac quindi un lilla il packaging del prodotto è questo ed è molto molto bello veramente e quando l'ho visto ho detto no deve essere mio mi stra piace tantissimo e quindi amen il prodotto mi piace perché sapete tutti che sono in fissa con questi ombretti molto glitterati e questo è il colore ed è un lilla potete fare qualsiasi make up e poi applicare questo al di sopra ed è veramente fantastico uno è questo allora poi ho preso lo 03 rosaline questo qui l'ho visto direttamente sulla commessa ce l'avevo applicato sugli occhi aveva questo e poi al di sopra un'altra cosa che vi faccio vedere dopo e il colore che ho preso io è questo ed è lo 03 vedete cioè sono bellissimi perché hanno glitter proprio a manetta il packaging mi piace tantissimo e questo è questo e questo è il colore allora sì vabbè diceva un rosellino che va bene ma applicato sugli occhi veramente è una goduria perché fa proprio dava quell'effetto specchiato che sinceramente era fantastico sugli occhi e mi piaceva tantissimo vi faccio vedere l'ultimo prodotto che è la chicca proprio la chicca io sono andata lì solo ed esclusivamente per prendere questo infatti io l'ho preso quasi subito sì sono sbaglio sì l'ho preso quasi subito dopo quando è uscito cioè dopo quando è uscito l'ho preso subito ed è l'highlighter quale highlighter potrebbe essere stoppate il video e ditemi quale highlighter potrebbe essere questo è tutto specchiato guardate la mia queen light e la colorazione è tatatata questo putiferio di glitter non lo so ve lo avvicino proprio per farvelo vedere ed è questo cioè ditemi che non è fantastico e questo sugli occhi sulle labbra è una cosa fantastica loro dicono vi faccio lo swatch loro dicono di applicarlo anche sul viso ma sinceramente anche no e questo è il colore e considerate che ce l'ho anche sul dito questo è il colore cioè vedete e vi voglio far vedere proprio applicato anche all'ombretto di poco fa cioè guardate la differenza la parte questa qui è senza glitter quella dopo è con i glitter cioè fantastica veramente fantastica mi strapiacciono tantissimo e sono una favola veramente una favola il fatto è che glitter rimangono dappertutto però sinceramente non vedo l'ora di utilizzarli sugli occhi e vedere proprio quello che si può sperimentare per quanto riguarda questi questi prodotti io i rosetti liquidi li adoro il primo che vi ho fatto vedere si è seccato subito quello dei simpson l'altro invece ancora più liquido però quando diventa quando si asciuga diventa un tono in più quindi scurisce abbastanza la tinta labbra però mi piace proprio il colore che io utilizzo sempre io piena di glitter vi saluto ditemi ovviamente cosa ne pensate dei miei acquisti per quanto riguarda la Wicon se questo bling bling vi piaccia vi piace vi piace questo glitter mi fa pensare al film dieci modi se non mi sbaglio per lasciare un ragazzo e quando aveva fatto tipo una pubblicità ed era ricopilitemi di glass ed era ricopilitemi di glitter bellissimo 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 quindi ragazzi io vi saluto vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao